E ora siamo arrivati ad un momento molto importante del nostro concerto, vale a dire la presentazione dei nostri musici, che hanno vietato questa bellissima serata. Iniziamo con i fatti, con Variangela Patrone, Susanna Poglio, Cristian Tortello, Di Matteo Pagliari, Andrea Renetti, con Claudia Bologna, professore di Puglietti Pogli, di Mera D'Arnazza, Luca Dio, Luca Dio, Simone D'Arnazza, Simone D'Arnazza, Massimo Conte, Marco D'Arnazza, Mera M�trico, Massimo Conte, da Semuna Sedi, Sì, su Carso Irari, Pia Giorgio Lucci, Albert Milone, Alta Scenico, Maria Grazia Pietrasanto, Pia Giorgio Lucci, Albert Milone, Alta Scenico, Alta Scenico, Alta Scenico, Alta Scenico, Alta Scenico, Pietro Otto, Maria Rico Bertolini, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.